Porca puttana, che botta! Ma bisogna ripartire! Allora, prossima campagna elettorale, evitare citazioni di Hitler e simili, il popolo dimostra di non gradire. Prossima campagna elettorale, tagliare i capelli a casaleggio o impedirgli di apparire in pubblico! Poi, allora, vediamo. Cos'è qui? Pronto, casa! Casa, ma tu ci capisci qualcosa? Cos'è andato storto? Confronto al boom dell'anno scorso, sembriamo dei petardi che hanno fatto cilecca! Puff! Praticamente è una loffa! Mi sento come l'Atletico Madrid! Un culo così per mesi e poi l'avversario mi ha fottuto al novantaquattresimo! Cosa? Colpa mia! Ah, dovevo rilanciare gli 80 euro di Renzi! Eh, gli italiani non si vendono mica il primo offerente! Eh già! Cosa? Offrire 90 euro? Ma io sono genovese! Casa! Sì! Eh, lo so, genovese ha fatto i miliardi a Messina! No! Secondo me ha portato sfida all'Hastag! Vinciamo noi! Ha fatto la stessa fine di Lo smacchiamo! Di Gargamella! Senti, casa! Guarda male che vada, torno al teatro! Sì! C'ho già il titolo del nuovo spettacolo! Dalle cinque stelle alle cinque stalle! Ah, dai! Ti saluto ora! Continuo a mangiare! Eh? E che mi sono fatto? Un bel pesto di malox alla genovese! Sì! Ora ci metto pure una grattatina di xanax! Vado e... Ciao, casa! Non me canto pure una xanax!